sconcertante una donna italiana incontra miriana di meggiugorie che le racconta il contenuto del settimo segreto in una piccola cittadina italiana una donna di 40 anni di nome elena con una vita ordinaria e un cuore aperto alla spiritualità ha vissuto un'esperienza straordinaria un giorno mentre stava andando al lavoro elena improvvisamente perso conoscenza e entrata in uno stato di coma profondo mentre il suo corpo giaceva immobile in ospedale la sua coscienza si è elevata verso una dimensione oltre la percezione umana elena si è trovata in un luogo di luce e pace dove ha incontrato una figura eterea una donna radiante avvolta da un'aura di serenità la donna si è presentata come miriana di meggiugorie una delle presunte veggenti delle apparizioni mariane avvenute a meggiugorie in bosnia ed erzegovina con voce dolce ma solenne miriana rivelato a elena il contenuto di uno dei dieci segreti che avrebbe dovuto essere svelato in futuro il segreto era il settimo uno di quelli che la ha sempre detto che fosse dal contenuto terribile il segreto era terribile e scioccante prevedeva un evento cataclismatico che avrebbe sconvolto il mondo intero una serie di catastrofi naturali guerre e violenze senza precedenti si sarebbero scatenate portando disperazione e sofferenza su scala globale era una profezia di distruzione e perdita che gelava il sangue nelle vene di elena mentre ascoltava le parole di miriana ma ciò che ha reso questa esperienza ancora più straordinaria è stata la sensazione di autenticità che elena ha provato era come se fosse stata davvero lì nel regno celeste e non solo in una visione o in un sogno quando elena è tornata alla coscienza nel suo corpo ha sentito il dovere di condividere questa profezia con il mondo nonostante l'incredulità e lo scetticismo di molti elena ha raccontato la sua storia sperando che possa servire come avvertimento e invito alla preghiera e alla conversione il suo incontro con miriana di meggiugorje ha cambiato per sempre la sua visione del mondo e della vita spingendola a vivere con una consapevolezza profonda del divino e dei misteri che oltrepassano il velo della realtà terrena grazie a tutti